Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Monti Catriniterme e Pistoia verso Firenze. In A1 si ricorda che stanotte in orario 22.6 per lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia rimarrà chiuso il tratto tra Firenze Sud e in Cisaregello in entrambe le direzioni. Sulla statale 1 Aurelia sempre a causa di lavori si consiglia prudenza per uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Rosignano Marittimo che è chiuso in entrata e in uscita in direzione Livorno. Cantieri di Firenze per il ripristino di Chiusini nel sottopasso di Viale Fratelli Rosselli fino a lunedì mattina in vigore un restringimento di carreggiata con possibili disagio alla circolazione. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!